Questa solennità mariana che si inserisce nel percorso di avvento ci indica una meta, una strada, ma anche un metodo. Innanzitutto dovremmo ridare il vero titolo, Immacolata significa tutta di Dio. Queste le parole del Vescovo Armando nell'Omelia, nella chiesa di Santa Maria Nuova, in occasione della festa cittadina dell'Immacolata. Maria ha proseguito il Vescovo e diventa la pienezza dell'obbedienza della fede. Se l'origine di ogni peccato è staccare la testa dal cuore e perdere così il senso della totalità in cui si può vivere serenamente la propria creaturalità, l'innocenza di Maria è questa capacità di dimorare nella realtà con cuore aperto ai passaggi imprevedibili di Dio. Maria è la donna capace di connettere il ragionamento con il cuore, capace di connettersi con il progetto di Dio, con il ragionamento e con l'obbedienza della fede. Una fede non ingenua, ma che domanda. Maria ha accettato e amato di essere tenuta per mano dal suo creatore. Il Vescovo si è poi soffermato sul disegno di salvezza per ogni creatura che è fondamento della storia. La lettura della storia ci dà saggezza, equilibrio e speranza, capacità di leggere gli eventi senza essere catastrofisti. Il Vescovo ha poi nel corso dell'Omeria posto l'accento sulla necessità di sentirsi amati, ricercati e accolti, tratti fondanti dell'equilibrio di una vita. Prima ancora della nostra stessa esperienza di vita, ha sottolineato il Vescovo, prima ancora e ben oltre tutti gli incidenti e le ombre che accompagnano la nostra esistenza, vi è questo sguardo che io chiamo di Dio sulla nostra vita. Il primo passo per collaborare con Maria al disegno di salvezza è lasciarci conquistare dall'amore di Dio. Maria ci faccia riconoscere, ha concluso il Vescovo, amati e quindi amabili nella vita.